Ti è mai capitato di sentire le gambe pesanti? La causa è il calore che dilata le vene del microcircolo. Le soluzioni? Bevi molta acqua a piccoli sorsi durante tutto l'arco della giornata. Mangia vegetali che sono idratanti. Evita eccesso di sale e di zuccheri, di bevande gassate e alcoliche. Ecco infine tre alimenti alleati della salute delle gambe. Il mirtillo nero, ricco da tociani utili alla microcircolazione. L'ananas, in cui si trovano acido malico e acido citrico, che favoriscono l'effetto diuretico. Il carassaco, le cui foglie ricche di potassio e di sostanze amare utili anche al fegato favoriscono il drenaggio dei liquidi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.